Ciao raga, sono Lely Rem, sto saluto molto alla Yoyo E niente, oggi sto ridendo perché dopo che abbia trovato un video su youtube strafaico che vi giuro non l'ho ancora aperto però sto tipo... c'era l'immagine iniziale che mi stava a far morire perché era una cosa abbastanza inquietante e solito seguiva 10 bizzarre in mezzo dei giapponesi, però i miei amici giapponesi mi seguono io dopo mi odieranno, il problema è che ho detto vabbè non è un gioco ok però vorrei tipo commentarlo con voi e vederlo insieme a voi in questo momento perché sta cosa... oh vi giuro sto già ridendo perché c'era un'immagine copertina che era una sorta di bocca immagino proprio quello a cui serva e volevo vederlo con voi per la prima volta a sto video, vi giuro non l'ho mai visto ve l'hanno messo adesso quindi proviamo è un video diverso dai suoi di game commentiamo un po così bellissimo che le cose giapponesi insomma sempre col far vedere la città io sto già ridendo 10 bizzarre invenzioni un'impastatrice, vabbè dai questa cosa è normale cioè non è ancora... questo qua è... ah beh certo ci voleva di invenzione però che stanno già ora oh ma che spettacolo questa roba che si cucina ahahahahah ma bellissima della sera può buttire manca i cani e si dà una roba del genere ah ah ha bellissima ma chi è che non andrebbe su un hotel per dormire dentro un buco tipo c18 c17 e questo che la bisogna da fare il video, capito? che non è questa cosa? ma se qua si inquieta tantissimo non vuoi fare di niente cioè fa me che mettere il burro no aspetta ma io non ho capito ma era questo dove fanno questo sembra un tipo una mosca ECCOLO! ECCOLO! lì dentro che cosa fai che ci metti? no, no, non me la fanno ma fa culo CERTO! CERTO! non puoi mangiare gelato ma ma che schifo è? ma che schifo è? oh mio dio certo non puoi mangiare gelato se non c'è una bocca grande così ma chi è sto ingenuo? mi prego io gli estirico la mamma chi è? ma perchè questa che invenzione è? ma non è un coglione se non ti vedo ma che... no raga non giuro io sto morendo cioè quella è l'invenzione per non fatti a sgamare questo si sta stuprando in invenzione che cosa? che cosa frutta? rendetemi conto che cosa frutta? oh mio dio oh mio dio no vabbè no questo ha vinto questo è un genio CERTO! per le persone che soffrono di solitudine che schifo è? i turisti in Giappone possono... cioè tu vai come turista in Giappone e ti compri delle gambe ecco l'altro altrimenti c'è un po' la faccia di vedere che rompe ma che invenzione è? ma perchè il tuo dito non ti basta? che cazzo? no spiegatemi l'utilità di sta roba no ma la migliore era quella della coca cola che nessuno ti scammava capito? i cocomberi quadrati cioè questi hanno fatto diventare i cocomberi quadrati per metterli dentro una scatola no vi prego ditemi che non fanno ridere solo a me queste cose io sto morendo guarda queste sono carine ecco queste me le compri ma si muovono adesso voglio il numero il prossimo video vi troverete con questa roba ah bellissimo ma bellissimo poi ero tipo un ragazzo di legno a più ah poi quella che mangia il gelato il gelato con la bocca grossa così certo proprio un gelato guarda sicuramente vabbè è così volevo divertirmi un attimo perchè era divertente io mi devo comprare orecchie quindi da domani se non vi volete far scammare le persone tutti a comprartelo dalla coca cola perchè venuterà nessuno ah vabbè poi vabbè attrazioni per i turisti le gambe certo io vado quando andrò in Giappone ad aprile la prima cosa che farò è comprarmi un paio di gambe per non sentirmi sola cioè ovviamente vabbè niente ah sto ridendo talmente tanto mi fanno male star tronte in gente e mi fa no no è il titolo informativo serve per il viso certo uno di tutti metti una bocca larga così per... beh sì alleniamo i muscoli della faccia indiricente vabbè ragazzi vi saluto a tutti ciao e ci vediamo al prossimo video cioè tornerò a fare video ormai ve lo prometto ciao ciao ecco 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 mio dio mio dio mio dio no non ci giocherò mai più oh no dopo questa partita io ho finito ho chiudo non so dove cazzo sta andando ma...